Ciao, Francesco mi chiede di andare ad analizzare il brano Bambole dei Negrita. Andiamo a vedere un po' cosa fa, non troppo nello specifico, ma sentiamo un pochino cosa va a suonare il basso utilizzando questa risorsa Cordify che io trovo molto comoda innanzitutto perché con un click faccio partire dal punto che mi pare, posso stoppare e farlo ripartire, ma un'altra comodità è il fatto che lui mi ingriglia le battute mettendomi già un'idea dell'accordo che andrà a suonare. Poi chiaramente tirare fuori la parte del basso è ancora poi un'altra cosa, però soprattutto se sei alle prime armi può aiutarti molto questa cosa. Andiamo a sentire, allora all'inizio il basso non entra, entra poi forse su questo Re bemol che mi sono segnato qua e viene suonato con il plettro dal suono, andiamo ad iniziare a sentire una parte. I monumenti a cosa servono? La vera storia non la insegnano? Non devo chiedere... Allora qua va Re bemol e La bemol, come vedi anche dal siglato. I negrita probabilmente qua suonavano scordati di mezzo tono, quindi quello che noi vediamo come Re bemol e La bemol loro hanno lo strumento accordato anziché Mi, La, Re e Sol, Mi bemol e La bemol e Re bemol e Sol bemol. Quindi quello che acusticamente è un Re bemol, in realtà loro lo suonavano come un Re ma con gli strumenti scordati e quindi si sente Re bemol. Però io adesso ho il basso accordato normale perché immagino che la maggior parte delle persone tiene il basso comunque accordato Mi, La, Re e Sol e quindi andiamo a vedere come la Mi bemol e Re bemol. Una cosa carina che fa Cordify è anche quella di pensare a un capotasto, quindi lui me lo può trasporre se io metto... Aspetta, capotasto... Adesso... No, se faccio trasponi, vedi che vado su di uno e lui me lo porta in Re e La. In questo modo io posso scordare lo strumento e mettere con i bemolli e poi suonare questi accordi che ci sono, cosa che non farò io adesso però. Andiamo a vedere quello che suona realmente su un basso accordato in maniera standard. Quindi quello che sento qua... Sento questo appoggio Ogni due battute In battere sento che appoggia fa un hammer on Provo a farci caso sull'A bemol ad esempio Quando entra qua sull'1 io ci sento un appoggio di una nota più grave Potrebbe essere questa cosa qua, il Sol che va a La bemolle Quando vai su Vai appoggiare il Do al Re bemolle Andando dopo Vedendo quando va a cambiare un pochettino gli accordi Ecco qua c'è una parte particolare Qua vedo che va a Fa e Mi bemolle E poi Si bemolle Questo Mi bemolle Andiamo a sentirlo perché lui lo prende basso Ecco il Fa E ha questa altezza Però se io prendo il Fa qua Poi mi manca il Mi bemolle Se lui era accordato mezzo tono sotto Per lui questa cosa qua Quel Mi bemolle era un Mi naturale Quindi riusciva a prenderlo tranquillamente con un quattro corde Andando a suonare il Mi a vuoto Che era accordato a Mi bemolle Come possiamo ovviare a questa cosa Se abbiamo un quattro corde accordato normale Alziamo di un'ottava Magari l'effetto si non sarà identico Va bene Però è una soluzione praticabile Infatti forse a fine canzone C'è anche un punto dove questo Fa e Mi bemolle Li va a prendere lui più acuti L'altra cosa che vado a notare E che i Fa e Mi bemolle Vengono presi un po' in anticipo Sull'uno Quindi questa cosa importante Valla a pescare insieme alla batteria Che dà gli stacchi insieme Molto carina questa parte Vediamo dopo come prosegue Qua ho sentito una cosa Bella sul basso Siamo in La bemolle Potrebbe essere questa Una cosa del genere funziona Allora io sono in La bemolle Triade di La bemolle maggiore La bemolle Do Mi bemolle La bemolle A me sembra il sentire che lui fa Mi bemolle La bemolle Acuto Mi bemolle Re bemolle Do La bemolle E poi va sul Si bemolle Prova a farci caso E poi va avanti con il pezzo Qua il basso si è fermato Qua è ripartito Vedi che qua Chordify riesce anche a prendere Questa mi bemolle Che è una nota di passaggio Che mette il basso Quindi lo suona in questo modo Ok come appoggio Mette il mi bemolle E ritorna subito A re bemolle Anche sul re bemolle L'ho sentito Scusami Anche dopo Anche per andare a la bemolle Va a mettere di nuovo Il mi bemolle Anche qua In questo caso Forse è una quinta Si E' sempre mi bemolle Che sull'accordo Di la bemolle Va a fare da quinto grado Quindi lo mette Questo è uno stacco Come prima Fa mi bemolle Però in questo caso Poi scende su un re bemolle Attenzione Anche qua lo anticipa Bellissimo 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 Queste due battute Lui è sempre in re bemolle Maggiore Qua tiene il re bemolle E qua va a fare Un pezzettino di scala Per portare sul re bemolle All'ottava alta Mi sembra Te lo faccio vedere In primo piano Se riesco Allora Senti Tre bemolle Normale Qua Qua Potrebbe fare Adesso non vado troppo Nello specifico Dovrei sentire bene Cosa fa il basso Quindi isolarlo Usare altre cose Però mi sembra Re bemolle Mi bemolle Fa Poi probabilmente Ci metterà anche un la bemolle Che è la quinta E poi Dovrebbe andare su Re bemolle Posso prenderlo qua Però senti che è piccolo Invece Secondo me Va a prenderlo Qua sopra Dopo ritorna Sul la bemolle E questo la bemolle Ad esempio Le prime due battute Le fa basse Qua sale E qua va a fermarsi Poi sul re bemolle Questi fa E mi bemolle Vedi Questi qua Sono quelli Che ti dicevo Prima che Probabilmente Va a prendere Qua alto Ma perché Perché poi Cade sul re bemolle E quindi Lo usa Come se fosse Una scaletta Per poi Finire sul re bemolle Che tiene lungo Benissimo Questa E' una Una cosa Fatta un po' Alla veloce Spero Che apprezzerai E quindi Chiedo A tutti Di lasciare un like Io ringrazio Per aver visto Il video Fino alla fine Mi raccomando Condividete il mio lavoro Per me è importante Ciao A presto Ciao